Eliminare i funghi dalla pelle con rimedi naturali. Per ottenere buoni risultati, è fondamentale essere costanti nell'applicazione di questi rimedi ed evitare anche l'eccesso di umidità dato che favorisce la comparsa di funghi. La comparsa di funghi sulla pelle è il risultato di infezioni causate da microorganismi, come dermatofiti e lieviti. Per eliminare i funghi che si sviluppano sulla cheratina morta, una proteina molto delicata presente sulla pelle, sui capelli e sulle unghie. Esistono però diversi rimedi. Ogni caso si presenta in modo distinto, ma in generale include sintomi quali prurito, macchie, desquamazione e, a volte, cattivo odore. Sono abbastanza comuni in individui con sistemi immunitari deboli oppure spesso esposti ad ambienti umidi e poco ventilati. Per fortuna esistono diverse soluzioni naturali che possono aiutare ad eliminare i funghi. affinché non si presentino complicazioni né proliferino in altre parti del corpo. Di seguito vogliamo condividere varie ricette affinché le proviate prima di ricorrere a costosi trattamenti commerciali. Rimedi naturali per eliminare i funghi dalla pelle 1. Olio di origano L'olio essenziale di origano è un prodotto dalle proprietà antimicotiche, che aiuta ad eliminare i funghi e altri tipi di microorganismi. Proponiamo di unirlo con un po' di olio d'oliva per potenziare i suoi effetti calmanti e dare maggiore idratazione alla pelle. Ingredienti 1 cucchiaio di olio di origano 15 gr 1 cucchiaio di olio d'oliva 14 gr Come si prepara? Unite in recipiente i due oli e usate la quantità necessaria di prodotto per trattare il fungo. Ripetete l'applicazione due volte al giorno tutti i giorni. 2. Limone con bicarbonato di sodio L'impasto con limone e bicarbonato di sodio possiede proprietà antimicotiche che inibiscono la proliferazione di lieviti e altri tipi di funghi. Ingredienti Il succo di 1 limone 1 cucchiaio di bicarbonato di sodio 10 gr Come si prepara? Spremete il succo di limone e mescolatelo con un cucchiaio di bicarbonato di sodio. Quando l'impasto sarà pronto, applichiamolo sulla pelle da trattare e lasciamo agire per circa 5 minuti. Sciacquate e ripetete l'applicazione fino a che non sarete riusciti ad eliminare i funghi. Dopo la fine di ogni applicazione, usate una crema idratante per evitare di far seccare la zona. Applicate il trattamento di sera in modo da evitare effetti negativi a causa dell'esposizione al sole. 3. Aceto di mele L'acido malico e acetico dell'aceto di mele contribuiscono a regolare il pH naturale della pelle. In questo modo, alterano l'ambiente di cui hanno bisogno i lieviti per proliferare. Se lo mescoliamo con alcune gocce di olio essenziale di tea tree oil, otterremo un trattamento più completo per eliminare i funghi. Ingredienti 1 barra 2 tazza di aceto di mele, 125 ml, 5 gocce di olio essenziale tea tree oil. 2 litri d'acqua Come si prepara? Riscaldate l'acqua ad una temperatura sopportabile e aggiungete l'aceto di mele e il tea tree oil. Utilizzate l'acqua per un bagno ed immergetivi per circa 10 minuti. Ripetete tale procedimento almeno 3 volte alla settimana per avere risultati ottimali. Leggete anche, tea tree oil, l'olio della vita e dai mille rimedi naturali. 4. Yogurt naturale I fermenti lattici vivi contenuti nello yogurt naturale hanno un effetto fungicida che riduce la presenza di qualsiasi tipo di fungo. Ingredienti 1 barra 2 tazza di yogurt naturale, 125 gr, il succo di 1 barra 4 di limone. Come si prepara? Mescolate lo yogurt naturale con il succo di limone e strofinatelo sulle aree da trattare. Lasciate agire per circa 30 minuti e risciacquate. 5. Aglio l'aglio è uno dei migliori antimicotici naturali che possiamo utilizzare. I suoi composti solforati impediscono la formazione di infezioni ed evitano che i funghi si propaghino in altre zone della pelle. Assumerlo rafforza il sistema immunitario e favorisce l'eliminazione delle tossine che fanno ammalare il nostro organismo. Ingredienti 5 spicchi d'aglio 1 cucchiaio di olio d'oliva, 14 gr. Come si prepara? Tritate gli spicchi d'aglio e mescolate l'impasto con un po' di olio d'oliva. Applicatelo sul fungo e lasciatelo agire per 5 minuti. Sciacquate e ripetete il trattamento tutti i giorni. 6. Aloe vera Il gel contenuto nelle foglie di aloe vera è un eccellente calmante naturale contro le irritazioni e l'arrossamento causato dai funghi. Ingredienti 1 cucchiaio di gel di aloe vera, 15 gr. 1 cucchiaino di olio di cocco, 15 gr. Come si prepara? Mescolate il gel di aloe vera con l'olio di cocco fino ad ottenere un mix omogeneo e denso. Stendete il prodotto sulla zona da trattare e lasciate agire per tutta la notte. Applicatelo tutti i giorni. 7. Sale marino Un po' di sale marino con acqua può far diminuire l'irritazione, il prurito e altri disturbi che derivano dalle infezioni micotiche. Ingredienti 1 cucchiaio di sale, 10 gr, 1 barra 2 bicchiere d'acqua, 100 ml. Come si prepara? Sciogliete il cucchiaio di sale nel bicchiere d'acqua e applicate il liquido diverse volte al giorno. Ripetete il procedimento diverse volte alla settimana per curare l'infezione micotica. Scegliete uno dei rimedi qui citati e usatelo in modo regolare per eliminare i funghi. In caso di reazioni negative, sciacquate subito ed optate per altre alternative.